La polizia locale ha proprio pochi minuti fa terminato tutti gli atti rispetto alle verifiche e alle sanzioni emesse ieri sera dopo i fatti accaduti nel ristorante e ci siamo occupati noi appunto di sanzionare con una situazione amministrativa di 400 euro il ristoratore che ha somministrato 20 bevande dopo le 22 e a lui sono stati imposti 5 giorni di chiusura del locale, del ristorante per quanto riguarda invece gli avventori sono stati tutti sanzionati con sanzioni amministrative da parte dei carabinieri in un'operazione congiunta, in un servizio, in un lavoro che abbiamo fatto congiuntamente colgo l'occasione per ricordare che è stato potenziato il servizio notturno della polizia locale ci sono tre agenti a disposizione di tutta la città proprio per pattugliare anche le aree meno frequentate a causa del coprifuoco fino a mezzanotte